Quante volte vi hanno detto che riciclare è importante e porta anche fortuna? Al Vulcano Buono, dal 21 aprile al 16 maggio, fai shopping, ricicla e vinci! Il grande concorso che ti fa vincere oltre 2000 premi immediati e buoni spesa del valore di 500 euro. Fai shopping e richiedi la cartolina. Parteciperai anche all'estrazione finale di una mitica panda, di un fantastico motorino e di una bici elettrica. E se consegni ai box due bottiglie di plastica da riciclare, raddoppi la possibilità di vincere. Fai shopping, ricicla e vinci! Al Vulcano Buono, Nola, Napoli